Dove trovo? Dove lo faccio? Dove mi trovo? Mi apri forza, non ce l'ho fatto. Dove mi trovo? Ciao. Noi vogliamo prenderti, signo. Cosa vuoi? Cosa hai visto? Io ho migliorato questo odio a te. E' vero che lui te l'ha detto a te? Sì, me l'ha detto a lui. Lui me l'ha detto a me. E' tutto vero. Gattolino? No, 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 no. Non quello. Nessuno me l'ha detto. Io non so proprio niente. Non sai chi quello è andato nel ghiaccio? Chi quello è andato nel ghiaccio? Oddio, mi sento solo male. Sì, lo so, ti ho dato una sberla. E poi devo darmela piano. Non svanire. E io così, con la sberla, ti ho dato che ti ho portato qui. Perché mi hai portato qui? Io non so niente di cosa stai parlando. Io non so niente. L'ho capito. Stai facendo sbitto. Ho detto sempre una forte battuta. 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 E' l'uomo. L'uomo si fa battuto. Ma, 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 lei non ha capito niente. Non sai niente. No, non sai niente. La porta mi elevata. Mi fa qui male. L'ho dato lì? Va bene. Sì, non sai niente. Tu che sei? Fatti vedere. No. Sento solo la tua voce. Da dove? No, la senta dove? Non c'è niente qui. Ma, non c'è niente. Non so, vai. Tiene la voce. E io, mamma, tu devi spiegare. Perché mi metto così? E mi da dove? Non puoi. Sì. Ah, sì. Mi stanno portando fuori. Oh, allora. Mi stanno portando fuori. Ma, ma che cosa? Sì, c'è niente. Prima c'è il grigio. C'è tutto cattivo. Lo facciamo di fattare buono. Dopo c'è il caro Loren che muore. Dopo c'è l'uscita di segno. Al final sta arrivando. E tre grazie che non vuole. Cosa devo fare? Cosa devo fare? I miei amici penso che mi staranno cercando. Muove di lasci fuori. Ragazzi, tranquilli, tranquilli. I miei amici mi cercheranno. E... Lasci fuori. A me ci già. Lasci fuori. Lasci fuori. Lasci fuori. Lasci fuori. Lasci fuori. Grazie a tutti Cosa vuol dire, bello? Questo. E' bellino, altra foto. Che cosa vuol? Voglio andare a scuola. Voglio andare a scuola. Questo vuol fare il mio esperimento. Oh no, oh no. Bello, bello. Mi ascolterò. Mi devo andare a scuola. Mi sono fatti a scuola. Ho picchiato. Oh, bello. Oh, bello. Bello, bello. Mi è scuola. Mi è stai pieno. Mi è scuola. Mi è stai pieno. Mi è scuola. 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 Ma non era un portale? Ho scuola. Ma possiamo fare un'altra cosa? Il portale! Il portale! Possiamo fare un portale! Così? Con la S e lui! Farai questa cosa! E dirai... Aiuto! Quanto stai di sognare male? Non so il capo, ma guarda! Per essere così, guarda il portale! E adesso... Cade... Nel porto che è in giocato! Aiuto il mio ruolo perché è troppo! Non lo andiamo a ruolo qui! Ehi, c'è qualcuno! Dove c'è? Dove c'è? Dove c'è? Esce? No! Voi c'è da fuori? Ehi, chi sei tu? Sono qui? Non lo so! No! No! Dove... Forse mi sono porti! Sì! Forse sì! No! Le mi piacere! Noi che dobbiamo farla! Tanto va andare male! Se potete svegliare il modello! La fatta, ma scusami... è morto è morto è morto non parlavi non mi sapeva cattivare uccidano di uomo sono stati uomini non lo porteremo via porteremo nel mondo degli fattori li rimaneranno là non da nessuna parte che vorrà scappare non scapperò ti ho visto che mi ha esso bravo non voglio essere più carico tu devi aiutare me a farlo stare qui perchè non può essere capi capi sarà qui per il senso il senso si e lo lascerai qui che vorrà vedere i suoi amici lo chiameranno o lo scriveranno o lo scriveranno ma lui deve stare salvo ecco così mi piace bravo vencerà vencerà questo scotto anche che combatterà vi darò io a difenderlo bravo bravo così perché fin non può la farlo adesso no e poi vai a casa su io ti chiamo tu mi numero può venire con i i i i i i i e